E siamo sempre in diretta qui su Country Live Web TV e ho niente po' di meno che di fianco a me Fabio Bergamini, il sindaco, il sindaco, Fabio Mi sento di darvi del tu perché vedo che sei giovane anche più di me Fabio, la prima domanda secca, balli country? No, purtroppo devo subito barcarmi, non ballo country perché non penso di essere un grandissimo ballerino Però mi sento davvero di ringraziare anche l'organizzazione perché fa una festa country nella nostra attrazione Che tra l'altro è quella dove io abito, non più lontano di 100 metri da qui e quindi davvero sono felicissimo Come l'hai presa quando ti hanno proposto questa iniziativa qui? Denti, oddio ma arriverà gente, genereranno fiumi di birra, sarà difficile essere a gestire? Oppure hai detto, meraviglioso facciamolo No, sono felicissimo perché so che tutti gli anni ci fanno cose di questo genere Soprattutto abbiamo un bel gruppo boldeno, vengono anche da fuori dalla nostra comunità Questo non può farci piacere, da 100, dalle comunità libidriche Abbiamo molti amici anche che saranno qui sicuramente più tardi E quindi è una cosa che funziona e a cui li teniamo molto, davvero Altri non ballo country però, altri balli? Un vicio latinoamericano? Ecco proprio, non è il mio forte, non è il mio forte Come l'ha presa invece la cittadinanza per queste feste che organizzate? È contenta, aiuta, arriva, corre o bruntola un po' perché magari pensa Oddio ci sarà la musica alta? No, beh, la dimostrazione più bella è che è accettato tutto, anzi è apprezzato moltissimo E che tantissimi gli ospitali sono nel nostro stand a lavorare gratuitamente Fatemeli ringraziare perché sottraggono lavoro ora, direi ora, la loro vita personale, la loro famiglia Per dare qualcosa alla loro comunità che amano tantissimo Tra l'altro festeggiamo anche i 50 anni, se lo scusa ma è importante Di attività pastorale del nostro Don Mario quest'anno Quindi essendo la festa del paese vicino alla nostra chiesa monumentale Ecco, questa è una giornata speciale Allora facciamo tanti auguri a Don Mario perché ce ne vogliono di personaggi importanti così L'ultimo gossip dal sindaco, che cosa ci consigli questa sera? Perché ci ha fatto un menù incredibile, ci ha dato un sacco di primi piatti meravigliosi Secondo te il piatto docker qui di ospitale di Bondeo? Beh, visto che sono piatti studiati dalle nostre signore Non mi sento davvero di dire, di fare una preferenza Altrimenti capite il mio ruolo, grazie mille Comunque questa sera e domani saremo qui a cena anche noi come amministrazione insieme a voi Grazie mille Grazie, grazie a Fabio Bergamini, il sindaco, grazie di essere stato qui con noi, grazie Grazie mille, grazie a tutti voi, buon divertimento